Do stanno? Eccoli, eccoli, stanno per Milano, a chi? Dove? Uno qua, ti morto? Ma dove? Eccolo! Sta l'altro! Aio! Morto? Uno, uno morto? Eccoli, vai! Eccolo! Vieni! Oh, ecco! All'altro, altri due! Oh, cacchio! Attento, eh! Uno è morto? No, eh! Ho finito le rete monizioni! Vai! Accendi! Aia! Uno è morto?